Una giostra più moderna e al passo coi tempi è stata presentata questa mattina alla ventottesima edizione della giostra cavalleresca della città di Sulmona, dove all'impersonale Giovanna D'Aragona sarà l'attrice e conduttrice televisiva Adriana Volpe. Dopo il nome di Eva Grimaldi, filtrato nei giorni scorsi, che non poche polemiche aveva suscitato fra il manager della giostra e gli stessi organizzatori, oggi quello della nota conduttrice di Scommittiamo Che e i fatti vostri, scelta per fare da madrina ad una giostra dove la tradizione incontra l'innovazione, in armonia con lo spirito della Toto Holding, quest'anno main sponsor della manifestazione che la società di costruzioni ha scelto di sostenere per una innovazione del territorio che oltre alle moderne infrastrutture passi anche attraverso la promozione della sua cultura e delle sue tradizioni. Il 6 luglio si entra nel vivo con la presentazione del Palio, opera realizzata da due giovani artisti sulmonesi, Valentina Grimaldi e Matteo Giannese, che nel Palazzo della Santissima Annunziata presenteranno l'opera rappresentativa dell'ultima edizione della giostra. Dopo la tenzone bronzea e il convegno Le Capitali della Pace, dedicato al messaggio di Celestino V, il 24 luglio appuntamento con il bando di sfida fra i capitani dei sette borghi e sestieri, che nelle giornate del 27 e 28 luglio si contenderanno l'ambito palio, davanti alla madrina che domenica sfilerà in corteo, accompagnata, come da tradizione, dal quarto reggimento dei carabinieri a cavallo. Il 3 agosto sarà la volta della ventiduesima edizione della giostra cavalleresca europea, con grande attesa per le dieci delegazioni provenienti da Malta, Regno Unito, Germania, Slovenia, Grecia, Spagna, Repubblica di San Marino e Francia. Quest'ultima con la delegazione ospite della città di Verdele, dove sono attivi gli ultimi celestiniani di Francia. Fra le novità di questa edizione anche gli scudi, che il borgo sestiere vincitore innalzerà sulla propria tribuna a fine gara, così da permettere a chiunque di seguire i risultati della manifestazione. E l'altra novità, si fa per dire, del progetto Sulmona Experience 360, finanziato con i fondi del PNRR, che, annunciato nel novembre del 2022, si concretizzerà con una virtual room nella sede dell'Associazione, dove saranno allestiti speciali visori per una giostra da vivere a 360 gradi.